Ciao a tutti, sono un bel ragazzo come si può vedere, vi sono nel Capricorno, 4 gennaio 1983, TST e FRZ 83 A04 L219 York, mi trovate a Torino, su tutte le migliori televisioni nazionali e regionali locali, grazie a tutti, un bacio a Franco Luansanto, ciao Franco E' vero che siamo in diretta qua, no? No, 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 non sono messo bene, la pace nel mondo Perché Luano? Luano è un bellissimo posto, il villaggio delle Calette mi piace tanto Qual è la prima parola che ti viene in mente se ti dico Devolution? Io la pace nel mondo l'ho già detta, ma poi sei psicologa? Scusate, io ho già la mia Anzi, io vorrei che attacca perché devo chiamarla mia che mezz'ora libera mi serve Stasera la persona che va a ballare, tango e merenghe? Come carioca, come carioca Dov'è tu amore? Penso che sei con, non lo so, adesso vado a telefonare, spegnoteca, basta Ciao a tutti! Grazie a tutti Buonasera Una domanda per voi Allora, perché proprio lo hanno? Perché è divertente Si può dormire, stare insieme e divertirsi Giocatrice di punta della magica Ci racconta perché proprio lo hanno Un'occasione di svago Mi sembra abbassante Ti piacciono le scimmie? Le scimmie? Le banane Ho capito 45-72 Sai dirmi chi ha dipinto quel quadro? Vedevo un po' Cos'è? C-Lipari? Lipari Signor Lipari A te piace Lipari? A casa ho La polizione Qual è il tuo fiore preferito? Non lo so Non mi piacciono tanto Secondo te la rivoluzione industriale è stata una cosa buona o sbagliata? No, 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 sbagliatissima Meglio Meglio tornare, diciamo, all'antico E cos'è per te l'antico? No, è pasto Cosa ti piace del fuoco? È caldo È caldo, è calmissimo Ringraziamo Martina Andiamo dalla nostra Chiara Andretto Andiamo qui con Chiara Andretto Il capello più riccio del top 5 Ogni riccio un capriccio Va bene, tu sei una capricciota? No, poco Poco capricciosa? Poco capricciosa Qual è il tuo capriccio più grande? Meglio una maionese che poi il mio ketchup Ketchup Pronto Il tuo drink preferito? G-Zonic Taco o scarpa bassa? Eh, dipende che taco Ma per me o per le altre? Per le altre Ho capito, bevi un po' di birra No, mi fa schifo Adesso sappiamo un vinello però Una parola la rubiamo anche a Deborah Che fa a madre? Buonasera Buonasera Sei felice di essere qui? Felicissima Poi è una stanza importante Sono con gente importante Hai avuto modo di apprezzare la piscina? Eh sì, ho apprezzato più il prato Ho preso il sole Cosa ti è piaciuto di più della piscina? Il secchiello col mojito A che ora erano quando hai approcciato il secchiello col mojito? Credo le 11 Le 11 del mattina Se poi ci vuoi enunciare un teorema di Euclide Quello che preferisci? Un teorema di Pitagora La somma dei quadrati costruiti sui cateti L'area del quadrato costruita sul contenuto Perfetto Ma che birro ci stupiti? Molto ci stupiti Anni lì è da una fugata Studiavo matematica Anni lì è da una fugata Molto buono Bianco Un po' fruttato Ma sei un'intenditrice tu? Ah, di... Bevo Di arcolizzo Chi è? Prego No, c'è un'inter... C'è un intervizio È una stanza molto affollata la nostra Come potete vedere Non si sa bene perché Oggi cercheremo di battere una squadra E comunque ci impegneremo tanto E comunque andrà bene Perché noi se vinceremo, vinceremo Ma se partiamo non farà niente ämre Di Fertilità Lì Luì Grazie per la visione!